Nicolà Bouvier, poeta, scrittore, giornalista, fotografo svizzero, ha pubblicato nel 1963 L'Usage du Monde, tradotto in italiano La polvere del mondo. Qualcuno ha detto che è il più bel libro di viaggio mai scritto dopo l'Odissea, io sono assolutamente d'accordo, racconto un viaggio incredibile, svolto nel 1953-54 da Belgrado fino all'Afghanistan in compagnia del pittore Thierry Vernet, a bordo di una Fiat Topolino. Un viaggio che non ha mete turistiche, ma che cerca di entrare nell'intimità di popolazioni antichissime e poverissime e di scoprirne i segreti nella vita quotidiana. I due amici passano per esempio sei mesi un intero inverno a Tabriz, dando lezioni di francese e i classici francesi a contatto con la civiltà persiana acquistano un significato completamente diverso. In Macedonia arrivano in un villaggio dove la gente fa 10 chilometri a piedi per trovare l'acqua migliore. Ecco, la riscoperta dell'essenziale, dell'essenziale che coincide con una assoluta semplicità, con uno spogliare l'esistenza. Bouvier dice che un viaggio non ha bisogno di motivi, basta a se stesso. Uno pensa che va a fare un viaggio, ma ben presto si rende conto che è il viaggio che ti fa o che ti disfa. Ecco, l'atteggiamento di Bouvier è quello di un viaggiatore che è sempre in ascolto, in ascolto delle diverse voci, in ascolto degli oggetti, in ascolto dei momenti e da delle definizioni bellissime di momenti epifanici nel deserto persiano o appunto fra le montagne dell'Afghanistan. Grazie a tutti.